Salve a tutti, parliamo oggi della Safar 522 prodotta in italia nel 1935, aveva onde medie e onde corte e funzionava a 220 volt e 5 valvole, una bella radio verticale impiarracciata in noce, questo modello in particolare come vedete è mancato del pannello posteriore, come purtroppo succede spesso, per il resto è tenuto abbastanza bene. Non sono riuscito a trovare i pomelli originali, allora per adesso ho messo questi, ma è una delle poche Safar che ho e poi è bella, volevo farvela vedere, grande altoparlante, 20 centimetri, se la volete smontare per pulirla, lavorarla, dovete togliere i pomelli, sbloccare il telaio qui sotto, fate una bella foto e poi estretti il telaio e togliete le valvole. Questa viene da una collezione di un mio amico qui del luogo che purtroppo è deceduto. Il valore di questa radio è media, il primo anno, cioè quando è uscita nel 1935, costava 1180 lire italiani, veramente una cifra altissima, circa 1200 euro adesso, ma il valore comunque rimane basso sul mercato. Quindi la Safar 522, eccola qua. Io vi do appuntamento alla prossima radio.